Mi son detta, ma io davvero, innanzitutto non hai capito un cavolo di me, niente, zero, che persona sono, e quanto ci tengo e quanti valori ho. Sicuramente nella vita sbagliano tutti, sbagliato pure io, ma io la mia scelta l'ho fatta, Mario. Qual è la tua scelta? No, guarda, non so neanche a riemparti tutto quello che ho sentito. Qual è la tua scelta? Niente, la mia scelta è che te ne puoi andare a casa. Ok. Per favore, non mi fermare. Ciao, abbiamo litigato, ma... Vabbè, ne ha combinate fin troppe, dai. Scusami, questa qua, tu hai sentito gli audio di lui? Maria, perdonami. Sì, sì, tutto, Maria, ho sentito, tutto, tutto, tutto. Grazie. 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 Grazie.